può essere midrange, carte forti col grande ritorno del tabbo di sughero e di crucias, che praticamente è come se l'avessero baffato come se fosse tornato 3-2 tipo perché tanto non c'è più gli archetti che sparano, quindi crucias rimane sapete anche cosa rimane? rimane il vostro supporto per questo canale se scaricate Dice Dreams da tutti i miei link in descrizione, nel commento pinnato, in chat su youtube, sit twitch e tutto il resto Dice Dreams, ogni singolo download sul vostro cellulare, aiuta la gleba ci vuole 3 secondi per voi per me sono 3 baci di amore Chaos voglio un nome fantasy che fa paura alla gente che così non sente il puzzo delle mie ascelle chiamerò Chaos greve chiamarsi Chaos nel 2023 e mi sa che la preparazione è di T-Caos sul petto esatto si ha proprio ragione oh te lo è donato ma è fava te però prima partita screw ovviamente per te lo ha fatto ma è fava pescante eh e attraverso No, ho detto sì. Devo dire no. No! Devo esprimere rabbia. E ti segue. Non ho detto archetti e anello. Archetti e anello li vanno anche a Artacea e i nona. Terra, mannaggia Gesù. Niente, Gesù ci odia. Abbiamo pescato il terro. Abbiamo pescato il terro, dottori. Successo. We did it. Era in conto, era in conto. Guri sa, guri sa, va bene, guri sa. Allora, Rall fa schifo perché c'ha Attila Sander. Prendeci i bobbi. Oh, Sandra, meno tre. Non è affatto male. O sono morto. Anche se sono morto non è affatto male. Non è affatto male. No, dice che sta tre turni a due terre. No, non fa vincere le partite di Magic. Allora, middrengione, cosone. è di End per Shield, Dredd, Legion Ashes è comunque sempre forte. Liliana è forte. Abbassare Reprieve. Un Assimilo. Qualmamente anche un Anello. Virtù è molto forte contro Flashgorger. Chandra è forte sempre. Shielded è forte sempre. Porcino è forte sempre. Forse è un cut down. Oddio, potevo togliere anche il Cavaliere perché c'è Attila Sander. Però magari è obbligato a tenersi Tira Sander per il Cavaliere. Quindi no. Ok. Ok. E' per farglielo usare. No, perché magari usa Tira Sander o non lo usa su altra roba perché sa che lo deve fare su Radic. Ecco, per esempio. Editto. Ci fai? Belli maiali porchi, sì. Beh, che hanno tutti e quattro i ditti. Ah, lui? Ah, lui? Non toghen bro Sponza col gare Ora l'hai finito Ora sei più scoradic magari Un altro Oh poh Dai due mana porcodinci E poi mi dicono che bestemmio Per forza Dai cazzo Ha tolto il mano bianco Il merda Caos Madonna Guarda fancaffè Quando ha fatto il turno Ok è arrivato Non si può ritirare i capetti Perché l'ho perso Ma sta tornando Sta tornando Sta tornando Che fai? Sai chi è che fa la roba così? Di solito Chi ha la mamma? No Orchetti è una merda Orchetti è finita Per me è uno che snapper si sta divertendo a fare il coglione C'è caos in chat Per caso con la cappa così Per caso con la cappa così Questa non è una merda Questa è una merda La cosa è una merda Questa è un'altra Grazie. Ah di te che sta sniperando in quel senso lì. Perché mi ha sempre fatto le cose nel momento esatto. Ci stavo pensando anch'io ma non volevo pensare. Cioè speriamo di no dai. Speriamo che ha giustamente tolto il giusto nel momento giusto sempre. Perché ha giocato bene. Tipo sto mana da spaccare ora perché il turno 6 perché spaccare il turno 6 per Chandra in mano che non sapeva. Non penso. Dai no dai dai no 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 no. Comunque mi ha girato male quindi va bene. Burp! Nostro fratello. Eh ci vuole tempo. Vabbè se la sai fare quella è una roba che nei reel va tanto. Peraltro l'ho messo eh ma fill reel quello di oggi. TikTok ultimamente mi sta distruggendo ma infatti credo che smetterò semplicemente di metterli. E intanto l'ho messo su Instagram e niente sta è lì. Vedremo come va vedremo come va come va come va assimilato. Vediamo se piace. Allora lui mi ha reprivato. Questo è counter o reprive di nuovo io Crucius ci provo qua. che sbirro però eh oggi oggi la gleba mi sta deludendo i due glebi che ho trovato sono tutti e due sbirri. non va bene. Sta snitchando. Vediamo se al terzo Crucius riusciamo a no è semplicemente gioca contro ma non è che c'ha il gigante quello nuovo gigante di die is this gigante di die contro Azorius sarebbe mio padre no gigante enorme ex proof invincibile è possibile in qualche modo cambiare il proprio nome di account su arena sì ma è uno sbatti atomico glielo reprivo per un motivo perché io glielo reprivo gli torna in mano se lo rigioca non può proteggerlo molto probabile che ora non lo rigiochi appunto infatti ossifica a non lo rigioca Vediamo se il pirata vince le partite come una volta Il pirata Signori Sto per giocare la carta più forte di alchemy nonché di arena Oddio però qui è forte fare raddick e peddler No in realtà volevo fare porcino e mi riprendo crucias Però tanto vale fare o crucias o peddler E sto aperto anche di removal perché mi sa che c'ha la gigantessa Prima peddler, sicuro E Teferi diventa un ottimo Juggernaut Veito la Sunfall No, Mirrex Porchetti Juggernautilus Intento porcino, portento Didere un evento e dissero portento Ah non avevo un bianco che non faceva danno Qui uguale, se solo per crucias vuole fare Sunfall Be my guest, io scarto un raddick e vado a prendere Chandra O Shibobi anche, non è a male Anzi forse ora scarto Shibobi per Chandra o Virtu E Virtu la vince eh, se passa Virtu gli ruba lo squalo H6000 laser la vince Fatto Sunfall per crucias e basta God Godo Beitando nel Goding è questo Porcino Perché non voglio verestendermi Quindi gioco primio Passo, se non fa niente Fini del turno mi riprendo crucio 3 mana remove all'esilio Che ti mette in mano un 4 mana 3-3 Esilio artefatto incantesimo Non ha minimamente bisogno di essere giocata nel mazzo maiale È proprio forte e basta Questa carta 12 per 1 36 per 1 Se non ho contato male l'ultima volta era 48 per 1 Secondo i miei calcoli dovrebbe essere 75 per 1 Credo mi abbiano detto anche che in America uno ha scoperto che è 112 per 1 Incredibile Questo è cruciale Pesca 7 Allora D-side orchetti contro determinati mazzi Potrebbe ancora veder gioco Io forse i D-side li metto gli orchetti a fare il figlio di Troia È troppo secondo voi Allora D-side o ce Ah questo è il più bel remix Della musica di Final Fantasy 7 In assoluto della storia Ora ve lo pompo nelle casse Su Youtube diranno Ma io non sento niente Devi venire in live cane Pensavi che droppasse Invece non dropp Dio e control Dio e control No il fa Mirex Mo cresce Mo cresce Ok 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 Troppo bello Ok 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 Smiro questo Sunfall 1, 2, 3, 4 Finita L'idea mia è di fare Anello e Chandra nello stesso turno, è follia Risposta pesca 38 e perde poi però Merda you, Oles Mirrex è un incubo per queste mazze 11 Io inizierai ad attaccare con il 4 watt Poi boh Sì c'è Demolition Field, non so perché non lo gioca O forse non l'ha visto Ti Demolition Field che fa la stessa cosa Dai Sir Burpo Bravo Timer 19, lui 21 io 8, veloce Sì, ti segue Tazzo Yabara O Yabara 9 Raga mi sa che C'ha 10 Twister C'ha il piccione Se pesca così tanto vuol dire che c'ha il piccione C'ha il piccione Mette Time Twister come unica carta del mazzo E chiude E rimischia tutto E se riparte Però pesca anch'io E io non lo voglio uccidere di punti vita Lo voglio uccidere di veleno ormai Settato l'Ital per il prossimo turno Ma io faccio anello No, mi fa negate e chiude Aaaaaah Aaaaaah Merda Cioè 8 fratte win condition Però è troppo Raga 8 fratte win condition Recursion dal cimitero? No Ecco qui doveva Qui dovevo usare orchetti Questi Decisamente Ecco qualche Un paio di rasuri ce l'ha Quindi vabbè Devo mettere un'altra legion Toglio un comfort di solo Vabbè Fino ce l'ha le rasuri Uguale Vediamo come saida Vediamo come saida Morte Il 14 novembre il sito dice Dice arena o xalan Porci è volato Porci è 75% di win rate Non posso C'è solo quello Voglio provare altre cose No minchia Io bivacco Ok intanto scrivo 14 novembre Prima di Di prendere altri impegni Madonna Tutte le manland Eh bivacco Minchia quindi esce xalan Esce xalan E tre giorni dopo C'è il qualifier historic Porca troia Eh no Non è bello ragazzi C'è l'ora D Tanto è andato al poligono 49 cento su 50 Minchia E' come 49 download Adesso dai streams Su 50 persone Mi sembra un ottimo paragone Povero Oppo no Povero Oppo no Gioca 8 fratte Povero Oppo non esiste Povero Oppo E' worth E' worth Perché mi da più valore Freno un attimo Perché se no poi Trovo il modo di togliermi Il bivacco E io perdo da questi cazzini Invece ora è il momento Di sviluppare le cose Così non può togliermi Chandra Eh E ora continuo L'aggressione Con Chandra in campo No va bene Va bene Va bene Benone Va benone Dopo la doppia dure Si il godo Tripla dure E la madonna Poi Finite Anni no 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 ma che voleva farmi perdere per forza porca madonna non ci vedo non ci vedo questo è proprio apposta questo è apposta questo è devi perdere cioè non è possibile non c'è un motivo non c'è un motivo ragazzi non c'è un motivo non c'è non c'è ma come non avevo bianco libero un bianco qui un bianco qua bianco non colore rosso bianco non colore rosso bianco bianco rosso in colore bivacco funziona ben dai no lo vedete lo fa apposta ora ce l'avevo ora ce l'avevo ora ce l'avevo ora la perdo per il content te lo giuro ora ce l'avevo continuo a tappare il bivacco continuo a tappare il bivacco madonna stra puttana ragazzi ma è allucinante ma che problemi c'hai testa di cazzo di gioco di merda ma quanto è codificato male ce l'ho già ce l'ho già animata in campo ce l'ho già animata in campo sì ma se ce l'ho già animata in campo non lo fare se ce l'ho già animata in campo non lo fare conta la creatura quella cazzo di terra se sei già animata in campo se non lo fare l'animo petta a palla ma dai è proprio fatto con il culo è incredibile sta cosa maffi mi raccomando questo trittico di autotapper per sbagliati diventa una clip non lo fare io ho già clippato risolgo le vratte mi piace sono usciti i pacchetti di jump in con alchemy e il drain veramente oddio non 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 Mio Reprive Score finale di Porcino è una roba tipo 75% winrate, ho fatto tipo 32-9, 32-10 Allora quanto è quotato il primo sunfall a molto breve Allora Ok non devo mai fargli fare un press da 5 Se no fa sunfall gratis Ce l'ha in mano Andra forza Vratta E come ha girato veloce con la terra Vratta in mano 100-100 Ragazzi il control cresce Le dures finalmente 4x Non senza E' 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 Circo E' 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 Mi spiace E' 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 Nel C'è' C'è' Nella faretra Io sono passato tutta la vita A dove conta i quadrelli E ora c'ho le munizioni infinite che non ti occupano peso nello zaro E' 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 una pacchia Com'è una pacchia Scaricare Dice Dreams che è lo sponsor di ottobre del canale E' una pacchia basta cliccare sul link dal vostro cellulare Cliccate sul link Finito il download Finito il download cancella tutto Non ci interessa Puoi non giocarci Perché lo sponsor non ci ha chiesto di farvelo giocare Dovete solo scaricarlo Serve due secondi della vostra vita Ma ogni singolo download aiuta la gleba ad avvicinarsi a La gleba ipotetica paradisiaca Scaricalo